Il sabato quasi sempre tutti i ragazzi si reaggruppano qua in centro a fare risse e robe così. Ma perché? Non ho idea. Il motivo principale per cui fanno risse non ne ho idea. Però si reaggruppano in un posto, quindi può essere come il centro, come può essere a paese, perché di solito anche a paese ci sono delle risse e basta. A non capire il perché di tanta violenza sono gli stessi giovanissimi che popolano il quadrante tra Piazza Borsa e Via Roma, dove l'allerta a sembramenti risse in vista del ritorno a scuola è alta. Diverse le volanti che anche nelle ultime ore stanno presidiando la zona e che domenica sera hanno scongiurato il peggio quando in stazione stava per esplodere una rissa tra bande rivali, ragazzini di origine nordafricane da una parte, coetanei dell'est Europa dall'altra. La segnalazione alla polizia è arrivata da alcuni turisti con l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine che ha evitato l'escalation. Una volta sul posto gli agenti hanno identificato dei giovani, mentre altri si erano già dileguati. In particolare la banda composta dai ragazzi magrebini avrebbe raccontato di essere stata minacciata dai rivali. Poco chiare le motivazioni. Sullo sfondo il fenomeno delle baby gang, sdoganato dallo stesso ministro, il trevigiano Carlo Nordio, che ha rivendicato la paternità del decreto caivano, con la stretta sui minorenni, soprattutto in materia di ammonimenti ed aspo, provvedimento che l'Associazione Sostenitori Amici della Polizia vuole portare nelle scuole trevigiane. In questo caso voglio dire, stiamo analizzando proprio in questi giorni i contenuti del decreto. Siamo pronti per poter somministrare agli stessi ragazzi quelle che sono le nozioni per far comprendere dove si può arrivare con la coliardrata, oltre alla quale chiaramente ci sono i diversi pericoli che riguardano l'illecito penale amministrativo. Ma a chiedere di cambiare passo, alternando repressione e prevenzione, sono anche gli esercinti, non sono più soltanto bravate. Anche gli stessi miei colleghi con cui mi ero rapportato in fase di campagna elettorale per le comunali, che si dicevano preoccupati ma non trovo perché sembravano quasi delle ragazzate fino a qualche mese fa, iniziano ad alzare un po' le antenne davanti a questi ultimi casi, che sono effettivamente più gravi rispetto a quelli di qualche mese e qualche anno fa. Anche perché parliamo di giovani trevigiani, ma ormai parliamo veramente di gente da tutto l'Interland, anche fuori provincia, che si dà a ritrovo qua a Treviso per battagliare come se fossero videogiochi. Non è tanto normale questa cosa dei giovani che fanno risse per credersi fighi. Non c'è nessuno. Sì, ne succedono, sì. E anche solo il pensiero che l'altra persona potrebbe farti qualcosa, un po' sì. Quindi ogni tanto c'è un po' di timore magari la sera. Sì, soprattutto andare in giro da sole, sempre in compagnia è meglio, insomma.